È un progetto di città allargato ai programmi del Polo Civico di Roberta Fusari e di Italia in Comune Ferrara Concreta di Alberto Bova, quello con cui Aldo Modonesi si presenterà al balottaggio del 9 giugno prossimo per scalzare all'anfambri dalla vetta del suo quasi 49%, un risultato che una città come Ferrara segna non solo una svolta storica ma un deciso capovolgimento dei valori che hanno guidato la città in questi ultimi dieci anni. Il centro-sinistra guida PD infatti, che ha solo impatto a che fare con la sinistra storica PC, PD, SDS dei precedenti 60 anni, ha guidato l'amministrazione estense a partire dalle elezioni del 2009. Parola d'ordine di quel momento storico è stato il beltoniano I Care, mutuato da Don Milani e ancora prima dai Kennedy e poi tradotto da Barack Obama nel suo più ottimistico weekend. I Care comporta un atto di coraggio per affrontare e sentire come nostro tutto ciò che riguarda la società, il nostro vicino, amico o nemico che sia e soprattutto il più debole. Un motto che appartiene in un qualche modo a tutti e tre i candidati sindaco che adesso si sono apparentati per sostenere i modonesi al ballottaggio. Un motto dimenticato forse da una certa parte della sinistra in questi anni con cui oggi chi sente di condividere i valori di giustizia e solidarietà e impegno civico nel centro-sinistra deve fare i conti di fronte ad un debordante menefrego salviniano insieme alla tentazione di dire Ferrari First, che non significa buonismo d'oltranza ma capacità di analizzare i fenomeni per quello che sono, hanno detto i tre, Bova, Fusari e Modonese e nello stesso tempo capacità di dare importanza a tutti i cittadini, alle loro paure e alle loro legittime ambizioni. Così a Ferrari il centro-sinistra allargato da Modonese al programma del polo civico di Roberta Fusari vorrà dire un governo della città basato sull'ascolto di tutti, un rapporto stretto con le frazioni e le periferie, una cura dell'ambiente come salute e benessere ma anche come risorsa, mentre l'alleanza con i tagli in comune terraria concreta di Alberto Bova porterà la volontà di fare cose magari minime e spicciole ma nel segno della concretezza a favore del lavoro, delle imprese, della stessa sicurezza nella vita dei quartieri.